Sabato 26 novembre i poliambulatori in Magico Mondo a Lovere tornano ad aprire le loro porte per consulenze gratuite e siamo in linea con Roberta Macario, presidente di Cooperativa Margherita. Questo appuntamento è dedicato soprattutto ad alcuni aspetti particolari. Questo è il terzo incontro che Magico Mondo fa per le consulenze gratuite. I nostri poliambulatori aprono le porte per dare supporto a chi ha bisogno di essere ascoltato e chi ha bisogno di avere qualche delucidazione su delle difficoltà importanti che riguardano i propri figli. Nello specifico questa giornata si occupa dei disturbi dell'apprendimento e del comportamento e per i tecnici, per HDH e IDSA. La cosa importante è che all'interno di questa giornata cercheremo anche di dare un supporto alla famiglia, al padre e alla madre e alle relazioni tra genitori e figli e la relazione di coppia che ovviamente quando ci si trova ad avere una difficoltà con un ragazzo che ha queste fragilità, queste difficoltà possono avere delle conseguenze anche sulla relazione sia di coppia che la relazione tra genitori e figli. Ricordiamo che questi appuntamenti con le consulenze gratuite sono a cadenza mensile, non ci resta che aggiungere dove si trovano i poliambulatori in Magico Mondo e quali sono gli orari. Magico Mondo si trova all'Overe, via Giorgio Paglia 2628, e le consulenze gratuite si svolgono il sabato pomeriggio dalle 14 alle 18. L'ultimo incontro per quest'anno 2016 sarà sabato 17 dicembre.